Un viaggio nella profondità dell'anima, nell'interiorità, alla ricerca del sé. Da questo lavoro introspettivo nasce il libro Le scaglie intorno di Salvatore Mellone, presentato ieri presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta. L'autore, barlettano, coltiva sin da bambino la passione per la scrittura e per la sua prima esperienza letteraria. Sceglie questa raccolta di poesie che viene pubblicata dall'Arbatros e il Filo, dove la narrazione procede attraverso un percorso emozionale con una scrittura ricca di metafore, allusioni e allegorie che pongono il poeta in una dimensione di alterità rispetto al comune sentire. Un passo importante affrontato da Salvatore Mellone è quello di ricercare se stessi attraverso il viaggio interiore, attraverso la risoluzione di prove, attraverso il confronto con l'altro da sé. Dalla scrittura emerge la sorprendente voglia di sconfiggere la sconfitta, la voglia di sopravvivere a se stessi, mettendo insieme e ricomponendo le scaglie intorno. È un viaggio nella profondità dell'anima, un viaggio comunque all'interno di ciò che è all'interno dell'uomo. Non ho la presunzione di spiegare cosa ci sia all'interno dell'uomo, cerco di spiegare cosa all'interno di Salvatore Mellone può uscire al di fuori. Quelle scaglie intorno che ricomposte possono creare la persona. Scrivo da quando ero bambino, ma comunque poi nel tempo questa voglia è venuta a rafforzarsi di modo che poi ho preso il coraggio a due mani, ho mandato queste mie poesie a Roma, a casa editrice Alba Trossi il Filo, e mi hanno dato la possibilità di pubblicarle. E questo è un grande piacere personale, una grande soddisfazione. Grazie.